Il 28 e il 29 dicembre nel Borgo di San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani, si terrà la prima edizione del presepe vivente Via della Fede. Ideato e realizzato dal parroco Don Bernardo Giglio e dalla comunità di San Carlo con la collaborazione artistica del maestro Pasquale Paolo Zito. La manifestazione vede la partecipazione di oltre 100 figuranti e animali di ogni genere che faranno rivivere i momenti e i tempi della natività. Durante la manifestazione è prevista una variegata degustazione di prodotti tipici locali. Vi aspettiamo il 28 e il 29 dicembre nel Borgo di San Carlo, frazione di Chiusa Sclafani, per vivere insieme momenti storici e magici della Santa Natività.